Raul Barbieri, direttore generale di Arezzo Fieri e Congressi, si è dimesso dopo quattro anni alla guida del polo fieristico Arettino, uno dei più importanti della Toscana. Da febbraio il manager non sarà più operativo. La scadenza naturale del contratto sarebbe stata il 31 dicembre 2014. Il centro affari, guidato da Mauro Pallini, inviato dalla Regione Toscana, dovrà adesso procedere alla sua sostituzione, in una fase piuttosto delicata e a pochi mesi dal primo appuntamento fieristico importante con Oro Arezzo. Io ho fatto una scelta professionale, sono quattro anni di esperienza, la precedente esperienza avevo lavorato cinque anni, chi fa il lavoro mio sa che ogni tanto questi periodi finiscono e ne cominciano degli altri. Si è presentata un'opportunità professionale importante per me, vicino anche tra l'altro al mio luogo di residenza, quindi anche in una scelta legata alla famiglia, ho deciso di accettarla. L'avrei accettata, fosse stata anche a Kathmandu, perché comunque è per me un'esperienza di crescita professionale estremamente importante. Si è voluto talvolta, sto leggendo, dare anche una vis polemica a questo. In realtà la scelta è di natura esclusivamente personale. La polemica c'è stata, perché non posso nascondere il fatto che quello che è accaduto riguardo Golden Italy mi abbia dato fastidio, ma l'ho combattuto, l'ho vinta, perché comunque abbiamo fatto una grande fiera, ma non sono questi i motivi che mi spingono ad andare via ad Arezzo. Il vero problema è questo, questa società, io nel 2010 presentai un piano di sviluppo delle attività che richiedeva un investimento da parte dei soci, perché come, faccio un esempio, la banca vuole aprire otto nuove filiali e quindi deve investire in strutture, in mezzi, uomini e comunicazione, altrettanto deve fare la fiera. Vuoi un calendario importante, arricchito, diversificato, occorre fare un investimento, che poi con le fiere rientra. Questo investimento è stato accettato, deliberato da tutti, ma poi di fatto non è avvenuto. Chiaro, ci sono dei problemi, la crisi, è evidente che poi non è semplice trovare le risorse. E quindi diventa difficile costruire eventi nuovi se non si ha la possibilità, se non si ha capitale di funzionamento. In più la società, per scelte dei soci passate, si trova fortemente indebitata anche per i lavori immobiliari, pertanto abbiamo dovuto ridurre anche il numero degli eventi, talvolta non eseguire quelli che non hanno una marginalità immediata. Art Expo era una di queste. Però siamo riusciti comunque a fare un palinsesto di eventi, penso di poter dire, molto interessanti.